Ed eccoci appunto le immagini del Radnischi di Nisch, la formazione jugoslava che aveva battuto e eliminato il Napoli. Ha vinto per 2-0 sulla forte formazione olandese del Feyenoord. In questo momento il Feyenoord è al sesto posto della classifica, 6 punti dal PSV Eindhoven. È stato già eliminato il PSV da questo torneo, ma è al comando della classifica nel campionato olandese. La squadra del Radnischi, vediamo andare in gol con Rados Avlievic al 27esimo del primo tempo, anche qui un'azione non molto lineare, non molto pulita. Rivediamo la fase conclusiva, i difensori olandesi hanno qualcosa da recriminare, hanno qualcosa da protestare. Rados Avlievic è piuttosto irruente nell'azione che lo porta alla segnatura. L'arbitro è che lo spagnolo Gurus Etamuro concede con valida il gol. 1-0 nel primo tempo, nel secondo tempo il raddoppio che fissa il punteggio sul 2-0 e opera di Savic. Anche qui sul limite del fuorigioco, anche qui protestano i difensori del Feyenoord, ma anche qui Gurus Etamuro concede il gol. Il Radnischi vince per 2-0. Rivediamo anche quest'azione, scatta sul filo del fuorigioco, forse è già un tantino al di là della posizione regolare, ma anche in questa circostanza lo spagnolo ha concesso il gol.